L'incontro di oggi credo sia molto importante e anche significativo che avvenga qui all'Isola Polvese dove grazie ad un lavoro importante che la provincia in questo ultimo periodo ha messo in campo con decisione e determinazione insieme anche alle concessioni esterne che è stato un intervento di riqualificazione ambientale dell'isola e di recupero di tutto il patrimonio sia questa parte del complesso affidata ad ARPA sia quella data in concessione per lo sviluppo delle attività legate al turismo. Siamo qui perché l'impegno della Regione in modo particolare attraverso un programma specifico territoriale di investimento su quest'area è grazie alla collaborazione con l'Unione dei Comuni e a risorse finanziarie importanti che la Regione ha messo in campo della programmazione 2014-2020 ci permette di fare investimenti sia sul versante delle imprese sia della valorizzazione di quest'area e del lago che ha un grande pregio ambientale, paesaggistico, evidente ma che rappresenta un volano economico centrale per il territorio ma anche la Regione nel suo insieme. Il laboratorio è volto anche a pensare innovazione, innovazione di tipo economico e innovazione di tipo sociale un territorio vive se ha potenzialità anche di crescita dell'offerta di lavoro sul territorio e della potenzialità che le imprese di diversi settori, quello dell'agroalimentare, quelli della pesca quelle del turismo, quelle dell'agricoltura possono mettersi insieme per dare forza anche a questo territorio abbiamo messo risorse per i temi delle infrastrutture e accanto agli investimenti dell'ITI abbiamo costruito un piano di un milione di euro per la riqualificazione anche di tutta l'area spondale del lago e anche di tutte quelle infrastrutture che sono connesse alla fruizione del lago e alla sua navigazione credo che questa operazione che abbiamo avviato nel corso della legislatura usando i fondi regionali e comunitari può aiutare in maniera molto concreta a dare un progetto integrato all'area del Trasimeno a dare sostenibilità agli enti locali di investimento e ad attrarre i soggetti economici che sono le imprese dei diversi settori che vengono coinvolte credo che non devo spiegare che il Trasimeno è una grande risorsa perché lo è ambientalmente e lo è anche da un punto di vista per esempio sul turismo il Trasimeno da solo fa quasi il 35% del turismo regionale quindi sappiamo bene qual è la sua forza e qual è la sua importanza per tutta la regione Dopo la riforma delle province ha cambiato un po' la gestione del Trasimeno, le competenze delle istituzioni adesso i comuni del Trasimeno vorrebbero magari prendere quelle competenze che erano della provincia che adesso sono della regione, cosa ne pensa? Questo è il lavoro che abbiamo fatto insieme, come è noto tutte le competenze in materia ambientale sono tornate alla regione che non può essere un ente direttamente di gestione supporteremo finanziariamente l'unione dei comuni ma cercando di far gestire operativamente ai comuni quegli interventi di chi è prossimo al territorio e di chi è prossimo ai cittadini la regione ha sempre affiancato le amministrazioni comunali in altri ambiti quelli sociali, quelli della cultura, quelli delle infrastrutture lo faremo in modo particolare anche nella gestione di questa funzione associata che i comuni eserciteranno in collaborazione per conto della regione Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!